Natale 2014, carissimo popolo, con i miei sentimenti vi voglio comunicare che si sta avvicinando il Santo Natale. Nonna Nannini vuole che questo Natale si presenti come Dio comando e che tutti siamo uniti con il grande valore delle volte. Io sono preoccupata perché tutti i colori che hanno il cuore buono ma si ritrovano senza lavoro e si uccidono della vergogna che non possono vivere. A me questo non mi sta bene. Io spero che l'anno 2015 è l'anno del cambiamento. Come dice il Pape, lui vuole che tutti i popoli devono essere credenti e che devono rispettare i comandamenti e i sacramenti. Oppure i politici devono mettere l'Italia nei migliori livelli e senza arruppare troppo. Cari amici di Cava dei Tifredi, preghiamo al Signore che il mondo sia giusto e che ci sarà pure un futuro per i giovani che così non tengono un lavoro. Tanti auguri ai miei nipoti di Torino e molti cari nipoti, i pizzaioli. Un grande abbraccio a tutti quelli che mi conoscono, che mi vogliono bene. Buon Natale e buon anno dal nonna Nannine. E vivo la pace! Grazie!